Il Libano è un messaggio. Il Libano soffre. Il Libano è più di un equilibrio. Il Libano soffre alla debolezza delle diversità, ancora alcune non riconciliate, ma alla fortezza del grande popolo riconciliato, come la fortezza dei Cedri. Il Patriarca Rai mi ha chiesto per favore, in questo viaggio, di fare una sosta a Beirut, ma mi è sembrato un po' poco. E' una briciola davanti a un problema, a un paese che soffre come il Libano. Scrisi una lettera e ho fatto la promessa di fare un viaggio in Libano. Ma il Libano in questo momento è in crisi. Ma in crisi, non voglio offendere, ma in crisi di vita. Il Libano è tanto generoso, nell'accoglienza dei profugi.